salve a tutti adesso sto leggendo dottrina e di salvezza volume 3 di joseph philie smith dalla chiesa di gesù cristo dei santi ultimi giorni parla degli ultimi giorni appunto cosa si intende per gli ultimi giorni il signore dichiarato con la sua stessa voce ed anche per mezzo della rivelazione ai suoi servi profeti che noi viviamo negli ultimi giorni quando parliamo negli ultimi giorni non intendiamo che questa sia la fine del mondo intendiamo dire che noi viviamo in quel periodo di tempo conosciuto come la dispensazione della pienezza dei tempi in cui il padre ha promesso di radunare tutte le cose in cristo sia quelle che sono in cielo che quelle che sono sulla terra intendiamo dire che noi viviamo nel giorno in cui l'ingiustizia cesserà in cui sulla faccia della terra non si troverà più malvagità e in cui infine questa terra secondo la promessa fatto dal signore al profeta daniele sarà consegnata ai santi dell'altissimo i quali la possederanno per sempre la natura pericolosa degli ultimi giorni noi viviamo in un periodo critico della storia del mondo grandi eventi ci aspettano il signore nella sua misericordia e con giustizia e discernimento abbreverà la sua opera in giustizia dei creati sono stati emanati ed è necessario che noi come membri della chiesa siamo uniti osserviamo e osserviamo i suoi comandamenti noi viviamo in un periodo di preoccupazioni e di affanni in un periodo in cui il cuore degli ultimi in ultimo degli uomini viene meno quando dolgeva il suo ministero il signore parlò di questo giorno ed esortò coloro che ora vivono a vegliare e pregare affinché se fossero stati così fortunati da essere qui nel grande giorno della sua venuta non venissero distotti e colti impreparati noi viviamo in tempi perigliosi in tempi in cui la missione della chiesa è forse più marcata è il nostro messaggio al mondo definito più chiaramente di quanto non lo sia stato prima come popolo noi siamo i testimoni di cristo in un giorno in cui il mondo si è allontanato da lui in cui esso insegna le dottrine degli uomini e abbandona la verità fondamentale della fede cristiana il raccolto del grano cosa significa le zizzanie vengono bruciate la parabola del signore sul grano e le zizzanie si riferisce agli ultimi giorni secondo la storia un seminatore sparse della buona semenza nel suo campo ma mentre dormiva arrivò il nemico e vi seminò zizzanie quando i figli d'erba spuntarono i serbi volevano andare a vestirpare le zizzanie ma il signore ordinò loro di lasciare che il grano e le zizzanie crescessero insieme finché il raccolto non fosse maturo e questo per evitare che insieme alle zizzanie venisse vissuto anche il tenero grano a suo tempo essi avrebbero raccolto il grano e legato le zizzanie per essere bruciate spiegando questa parabola il signore disse ai suoi discepoli che la meditura è la fine dell'età presente i meditori sono gli angeli le zizzanie e il grano crescono insieme e per tutti questi anni sono cresciuti insieme nello stesso campo ma è vicino il giorno in cui il giorno sarà raccolto il grano sarà raccolto e anche le zizzanie saranno raccolte per essere bruciate e allora ci sarà la separazione dei giusti dai malvagi e dopo perciò che ognuno di noi osservi i comandamenti del signore si penta di loro peccati e si volga alla sua giustizia dividente separazione dei giusti dai malvagi le zizzanie vengono legate in tanti covoni per essere bruciati insieme il grano viene ammassato nei granai e il giorno della separazione è vicino anche la chiesa sarà purificata a coloro che sono annoverati fra i membri della chiesa ma che sono del mondo saranno scacciati e il loro posto sarà fra i indenni dove vi sarà pianto e strido di denti edificate e rafforzati i membri della chiesa nella fede in dio ne abbiamo bisogno proprio fra i membri della chiesa vi sono tante influenze che si adoperano per separarci e uno di questi giorni nel prossimo futuro vi sarà la separazione del grano dalle zizzanie e noi saremo o grano o zizzanie noi saremo o da un lato o dall'altro come è vero che viviamo così verrà il tempo in cui ci sarà una separazione tra i giusti e ingiusti coloro che non avranno osservato la legge del signore negheranno la fede poiché egli libera del suo spirito se essi non si pentiranno dopo aver lavorato fatto tutto il possibile per metterli sulla via del dovere e una volta che perderanno lo spirito essi si troveranno abbandonati a se stessi gli angeli stanno ora mettendo la terra chi sono questi angeli in verità io vi dico che siete puri ma non tutti e non c'è alcun altro in cui io mi compiaccia questo fu detto dalla chiesa più di cento anni fa il signore non si compiace di noi perché non siamo puri poiché ogni cosa e ogni carne corrotta al mio cospetto e gli poteri delle tenebre prevalgono sulla terra tra i figli e gli uomini in presenza di tutti gli eserciti celesti il che fa regnare il silenzio e tutta l'eternità è una pena e gli angeli stanno attendendo il grande comando di mettere la terra per cogliere l'olio perché possa venire bruciato ed ecco che il nemico cospira questa rivelazione fatta il 2 gennaio del 1831 e quel tempo il signore disse che tutta la carne era corrotta al suo cospetto cosa disse egli della carne al tempo di noi pensate che il mondo si è migliorato se lo pensate voi direte che non avete letto attentamente queste scritture così cento anni fa ma gli angeli stavano aspettando di andare a legare le tizanie e mettere la terra il presidente Wilford Woodruff dopo la dedicazione del tempio di Sallei che disse per rivelazione che gli angeli di cui si parla che stavano aspettando di andare a legare le tizanie e a mettere la terra erano stati mandati per svolgere la loro missione ricorderete che nella parabola delle tizanie il signore disse ai suoi servitori di non toccare le tizanie per timore che negli si spalle non si spassero anche il grano perché l'erba era tenera disse anche che l'una e l'altra pianta doveva essere lasciata stare finché il raccolto non fosse completamente maturo raccolto che ci faceva capire avrebbe avuto luogo alla fine del mondo e lontano 1893 il profeta del signore presidente Wilford Woodruff dichiarò che gli angeli erano stati mandati a legare le tizanie e a preparare la terra per gli incendi tuttavia esso non ci sarà affinché la terra non sarà matura in iniquità i ribelli saranno stroncati alla seconda avvenuta i versetti 22 23 del capitolo 3 degli atti si riferiscono a cristo e devono ancora adempirsi e si dicono mosea infatti disse il signore dio vi susciterà di fra i vostri fratelli un profeta come me ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà e avverrà che ogni anima la quale non avrà ascoltato adesso profeta sarà del tutto distrutta di fra il popolo questo è conforme all'affermazione contenuta nella prima sezione di dottrina alleanza secondo la quale viene il giorno in cui chiunque non vorrà ascoltare la voce del signore nella voce dei suoi servitori né a prestare attenzione alle parola dei profeti e degli apostoli sarà stroncato di fra mezzo al popolo questo profeta di cui parla mose è cristo e quando egli riterrà opportuno parlare e dare comandamenti al popolo con il potere la forza con cui saranno dati in qualche tempo futuro non soltanto i membri della chiesa che si rifiuteranno di ascoltare saranno eliminati i suoi giudizi colpiranno le nazioni e tutti gli empi che saranno di essere i quali ragni e quel giorno e quel giorno è vicino e non di uccisioni quando si parla di eliminare di metitura di separazione dei malvaggi con i buoni si parla proprio di una separazione spirituale si parla di un una classificazione che con passare del tempo sarà più chiara e quindi coloro che saranno ritenuti giusti saranno messi da un lato e le altre categorie in altri in altri luoghi in altre destinazioni quando si tratterà della risurrezione di assegnare i cari di gloria in altri sostanzi di api in altri luoghi Grazie a tutti